Il disegno di legge definito anti-movimenti presentato dal Partito Democratico in Senato ha sollevato un gran bel polverone. Il testo infatti sbarrerebbe la strada a tutti i soggetti senza personalità giuridica e senza statuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È subito polemica dal Movimento 5 Stelle che accuse firmatari Zande e Finocchiaro di voler far fuori i movimenti e tutta quella parte di popolazione che non si riconosce nei partiti. «Sono stupito, mi sembra una polemica del tutto strumentale», dichiara Luigi Zandaco, firmatario del testo. È un disegno di legge continua presentato nella scorsa legislatura e ripresentato quasi automaticamente come di prassi all'inizio di questa, visto che non era stato affrontato prima delle elezioni. Il testo ha un obiettivo molto trasparente, dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione con norme sulla democrazia interna ai partiti e sulla trasparenza dei loro bilanci. Quando è stato presentato la prima volta, il Movimento 5 Stelle non era nemmeno in Parlamento. Il provvedimento Zande e Finocchiaro è un provvedimento sbagliato perché limita gli spazi di agibilità democratica e consente a Grillo di interpretare questo provvedimento in modo penalizzante per il Movimento 5 Stelle. Invitiamo pertanto il PD a ritirare il provvedimento.